Un gomitolo rosa per lavorare insieme. Questo l'obiettivo dell'iniziativa che verrà presentata a fondi da Andos Onlus, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, giovedì 25 ottobre alle 17.30 a Castello Caetani. Dopo i saluti del sindaco di fondi, Salvatore De Meo, si terrà la presentazione dell'iniziativa. A seguire, la tavola rotonda, l'importanza della prevenzione, l'universo femminile a confronto. Il gomitolo rosa, iniziativa a livello nazionale, è un contenitore di idee e di persone che intende sostenere la salute della donna, recuperando la lana non assorbita dal mercato e contribuendo ad un miglior equilibrio dell'ambiente. Nell'ambito dell'iniziativa, domenica 28 ottobre seguirà l'appuntamento Incontriamoci al mare con il Nordic Walking, una passeggiata per la solidarietà. Andos Onlus, Comitato di Latina e Comitato di Fondi, invitano tutte le donne a partecipare a Capo Portiere Lido di Latina alle ore 10. Iscrizioni entro il 27 ottobre. Tutte le info contattando il Presidente del Comitato di Fondi, Caterina De Filippis, al numero 392-9458-154. Ehi, 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 ehi Grazie a tutti.